buonasera buonasera a tutti e ben trovati anche nel 2021 insieme a voi qui su bridge of lights sono contento di essere ancora qui anche per quest'anno grazie come sempre a Gaetano che ha rinnovato diciamo l'interesse di questo gruppo per avere le mie dirette e sono veramente veramente contento vi avevo chiesto innanzitutto vi chiedo una cosa come va l'audio perché ho delle cuffie nuove e quindi non so come va mi piacerebbe avere subito il feedback in maniera che così ci regoliamo immediatamente dopo di che subito vi chiedo domande domande di ogni genere perché me ne è pervenuta soltanto una ultimamente per cui anche perché molti di voi mi hanno scritto in privato molti di voi mi hanno scritto su whatsapp molti di voi mi hanno scritto in ogni genere di cose quindi io risposto privatamente alle vostre domande e non ne sono rimaste per per le dirette vado a cercare la domanda che mi è pervenuta da chiara buonasera chiara e poi si prosegue sulla scia di quella domanda a un piccolo una piccola idea una piccola suggestione che di cui vorrei farvi partecipe e in realtà è una è un'idea che ho da sempre che ho sempre trasferito e mi piacerebbe mi piacerebbe sapere anche voi cosa ne pensate e nel frattempo aspettiamo un attimino come sempre ciao gaetano buonasera ciao a tutti ciao gabriella mena francesca olivia viviana tiziana e grazie anche del feedback sull'audio che era importante per cominciare subito subito bene avrei proprio voglia oggi di fare un dibattito per cui scrivete immediatamente quello quello che avete in mente nel frattempo vi annuncio con grande piacere che ho avuto poi anche oggi contatti partirà un bel progetto di un libro che uscirà a breve questo punto direi a breve e con gli amici della libreria esoterica del gruppo anima e olivia che domande si possono fare soprattutto su tematiche di energia esoterismo ma siccome ciao violetta noemi siccome poi vedo sempre che c'è gente sempre nuova faccio una piccola presentazione una piccola presentazione di chi sono io che cosa faccio nella vita come mai sono qua di cosa mi interesso e cosa mi piace cosa non mi piace come proprio le presentazioni quelle facili facili tanto mi presento e saluto tutte le persone nuove io mi chiamo guglielmo poli e sono il codirettore internazionale di the reconnection che è una azienda americana che si occupa di benessere in tutto il mondo e il fondatore di questa azienda è il dottore eric pearl che non so potreste anche averlo già sentito per il libro the reconnection molto molto bello ormai di tanti anni fa edizioni my life e che per anni ha insegnato le connect the feeling e the reconnection in giro per il mondo da un paio d'anni non è più lui a insegnare questo in giro per il mondo ma sono io a sua volta insieme al mio team internazionale quindi tengo corsi di formazione in ambito energetico in tutto il mondo vengo il dal mio ultimo corso che è stato quello di bogotà in colombia e per darvi una panoramica un pochino generale su che cos'è reconnecting healing è una forma di ribilanciamento energetico dista e si differenzia da tutte altre poiché non è una canalizzazione quindi non viene introiettata energia per poi essere proiettata alle altre persone non è una forma di trasferimento di energia quindi non è qualcosa come per esempio la pranopratica dove l'operatore cede la propria energia agli altri ma quello che succede con i reconnecting healing è un'osservazione consapevole del campo osservando il campo in una maniera del tutto particolare quindi liberi dal proprio ego liberi dalla propria mente in maniera totale come vi insegniamo ai corsi che cosa succede il campo muta il campo entra in un sistema di entropia negativa come hanno ben osservato anche stanford university università dell'arizona che hanno fatto esperimenti proprio su reconnecting healing mutando il campo in entropia negativa che cosa succede dal disordine si rigenera ordine quale ordine il tuo ordine personale il tuo ordine implicito diremmo in filosofia ciò che sei tu veramente quindi quello che sei tu veramente viene portato al massimo viene portato alla più alta diciamo armonia di te stesso con te stesso in quel momento in quella fase in armonia totale di te stesso con te stesso tu poi riesci in quel momento a riattrarre di nuovo quello che è giusto per te penso che sia noto a tutti il fatto che sostanzialmente siamo come magneti attiriamo ciò che è simile a noi stessi attirando ciò che è simile a noi stessi è molto importante però essere coerenti con la nostra parte più reale la nostra parte più profonda il la ghianda come la chiamava james hillman no nei suoi nei suoi scritti grande psicologo americano e quindi break con active healing non è specifica per qualcosa non si può chiedere a un operatore fai questo per me anche perché responsabilità sempre di ognuno è quella proprio di avere in mano la propria vita di non affidarla agli altri bisogna essere responsabile al cento per cento delle proprie azioni responsabile al cento per cento della propria energia e del vostro ordine questo è molto importante e quello che succede però avviene in una in un modo assolutamente imprevedibile per quanto riguarda la mente ma prevedibilissimo per quanto riguarda la tua parte più profonda che possiamo chiamare in senso non teologico l'anima e quindi questo ritorno all'ordine così perfetto sia proprio utilizzando questa pratica chiamata re connectivity il libro è stato tradotto in 39 lingue in tutto il mondo la insegniamo la insegno adesso in in tutto il mondo in varie lingue tradotti e i prossimi corsi in italia saranno il 20 il 21 di marzo a milano se mai vi dovesse interessare l'argomento quindi vedo che vi è piaciuto vi è piaciuto l'input che ho dato perché ci sono alcune questo grossica grosso modo per quanto riguarda re connective healing che è diciamo quello che faccio nel mondo quello che faccio nella mia vita di solito qui su bridge of lights però anche per non sembrare quello che viene a farsi pubblicità sui gruppi che lo accolgono anche perché non è esattamente il mio stile e parlo di altro anche perché diciamo che a livello di formazione prima di arrivare a re connective healing ho fatto tantissime esperienze tantissime esperienze dovute più che altro a una situazione personale familiare che mi spingeva alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso rispetto a quelle che fossero sistemi di aiuto alle persone normali e normali tra virgolette normali diciamo ordinari e quelli che conoscono un pochino tutti nella nostra cultura media e quindi veramente ho fatto tante esperienze in più proprio come passione passione personale sin da quando avevo 13 anni ho iniziato a leggere i libri sacri di tutte le religioni io sono quello un pochino che va nel gruppo controcorrente sono quello che da risposte un po scandalose per cui non ve ne abbiate male abituatevi a questo se desiderate seguirmi e quindi lo studio dei libri sacri e lo studio dell'esoterismo sono state diciamo il mio printing per poi andare avanti sui sistemi di ribilanciamento energetico mi piace chiamarle così non di guarigione perché in italiano guarigione è una parola che è molto legata al fisico quando invece il concetto che ho io di healing a livello internazionale è molto più olistico nel vero senso della parola e quindi questo è più o meno quello che ho fatto io sono anche laureato in giurisprudenza o master in HR management per non farmi mancare niente voi direte ma che c'entra giustamente poco e niente però proprio questo vi deve far capire come a un certo punto nella mia vita ci sia stato un cambio uno shift incredibile dovuto proprio alla mia esperienza con Reconnective Healing e con The Reconnection che è proprio la riconnessione personale e la connessione a te stesso e questo sostanzialmente è il flusso degli eventi che mi hanno portato qui quindi dice Veronica ah no prima beh dovrei la prima domanda a chi si è prenotata prima giustamente mandandomela già nel pomeriggio a Chiara che mi chiede cosa ne penso degli specchi e seni io non so che domande che risposta ti aspettassi da me conoscendomi già però sai che sono piuttosto allergico a tutto quello che viene chiamato con un nome ma senza in realtà una profonda base storico razionale nel senso il libro è anche diciamo la dottrina interessante interessante come tante altre pratiche a dire il vero quello che mi fa venire l'allergia e chiamarlo esseno chissà come mai esseno in realtà non ci pervengono testi o ci pervengono informazioni che questa fosse della diciamo queste pratiche che si leggono nel libro siano effettivamente riportate in nessun modo alla categoria degli esseni no questa questa setta era effettivamente una setta attiva sin prima dai tempi di Gesù di Nazareth e quindi mi interessa però io vedo anche sempre molto voglio voler mischiare le cose quando si mischiano le cose a volte si fanno delle cose eccezionali talvolta però mischiando le cose vengono fuori delle schifezze vi faccio un esempio veramente stupido io sono di Bologna mi piacciono molto le lasagne che sono già un piatto abbastanza complesso e mi piace anche molto la cotoletta alla bolognese che è un piatto assolutamente ricco anche questo e mi piace anche il tiramisù e mi piacciono mi piace mangiare in piatti diversi perché se io mangiassi le lasagne con sopra una cotoletta con sopra un tiramisù verrebbe veramente una schifezza di piatto vi rendete conto allora quello che è importante talvolta nel mondo dell'energia e ritornare al minimo come un denominatore ritornare a quella che è veramente l'energia originaria quella che è prima dell'interpretazione della mente prima di pensare che sia divisa in sette chakra in 140 non so quanti meridiani prima che sia di quell'entità di quell'altra entità cioè tornare a un concetto di energia che è l'energia primordiale che l'energia reale e da lì poi a seconda dell'osservazione della nostra mente l'energia si staglia e muta limitandosi poiché non è proprio dell'essere umano non è capacità dell'essere umano fare la piena esperienza dell'energia dentro questo involucro fatto di carne ossa sangue fatto di limiti perché l'essere umano ha di per sé scelto ad un certo punto del tempo o del non tempo a seconda poi delle varie visioni di immettersi in questo corpo di carne ossa e andare a osservare quella che è sostanzialmente una esperienza di tempo gravità di caducità di entropia che è quell'accadimento per cui tutto dall'ordine degrada al caos progressivamente e l'abbiamo scelto così e va benissimo così e ci piace così perché altrimenti non l'avremmo fatto evidentemente utile a uno scopo sicuramente più alto e utile a uno scopo più profondo rispetto a quello della semplice vita umana terrestre questi anni che sono pochissimi se ci pensate bene in questo pianeta minuscolo dell'universo e credo che ci siano molti indizi per il fatto che veramente noi scegliamo e creiamo in ogni secondo la nostra vita certamente se uno volesse e chiedesse di fare un'esperienza energetica piena non la potrebbe fare sicuramente con il cervello non potrebbe farla sicuramente con la mente ed è per questo che tantissime pratiche mentali quali la meditazione tentano o tentano è veramente un tentativo quello di annullare e svuotare la mente per poi pervenire nel nulla cosmico quel nulla che non è il nulla di nice ma è il nulla bello è il nulla pieno di potenziale è il nulla dove si crea il nulla dove ci si espande nulla delle piene potenzialità e ci sono molte pratiche che lo fanno però se noi vogliamo agire totalmente senza 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 la mente noi dobbiamo adire a una forma energetica che è totalmente libera da ogni genere di attaccamento nostro ed è quello che io insegno in giro per il mondo questa è così quindi sì è interessante il discorso degli specchi esseni però io durante l'ultimo corso di bogotà mi sono sempre preso il mio tempo per andare a indagare un pochino in giro e come sempre trovo che l'essere umano abbia avuto bisogno di mischiare tradizioni che più o meno corrette più o meno legate comunque al culto della terra degli astri del tempo dei cicli con altre cose che gli facevano comodo oppure che si è ritrovato obbligatoriamente a dover avere è molto interessante sotto il mio punto di vista il genere di esoterismo che c'è in latino america perché è un genere di soprattutto devo dire in brasile però anche in colombia ecuador ci sono moltissimi momenti in cui vediamo che le tradizioni legate alla natura si legano alle tradizioni diciamo cristiane questo perché è avvenuto e anche tradizioni indigene molte tradizioni indigene c'è una parte di tradizione indigena che viene sviluppato nei segreti vengono chiamati così ma in realtà se voi andate in val d'aosta anche in val d'aosta ci sono i secreti che dove le nonnine di una volta fanno uso di erbe incensi eccetera quello che è classico di questa possiamo dire tradizione primordiale per fare un discorso abbastanza semplice una tradizione primordiale che c'è praticamente in tutto il mondo e quindi la tradizione degli indigeni poi c'è la tradizione africana perché quando gli spagnoli quando i colonialisti hanno portato dall'africa gli schiavi per coltivare per aiutare per sfruttarli proprio nel vero senso del termine in in queste piantagioni gigantesche di caffè di zucchero e nel nord america nelle piantagioni di cotone e loro hanno portato con se stessi le loro tradizioni e ovviamente i colonialisti beceri come sempre uomo bianco che in realtà non è uomo spirituale ma è uomo che modifica l'esterno è un conquistatore l'uomo bianco di sua nel peggior senso del termine di sua natura non accetta il sistema così com'è non accetta la natura così com'è ma la deve continuamente modificare ed è per questo che grandi opere di ingegno sono proprio proprio delle culture diciamo europee al contrario le altre culture mi viene in mente la cultura dell'oceania quindi con gli aborigini piuttosto che quella proprio degli indius eccetera hanno si creato civilizzazioni ma civilizzazioni sempre nel rispetto dei cicli e della tradizione della natura perché vi dico questo perché quando gli africani poi hanno portato dall'altra parte del mondo la loro cultura quindi le loro credenze per lo più animiste e l'uomo bianco che ne era il padrone e soprattutto i cristiani che erano i padroni hanno voluto che loro si convertissero questo che cosa ha creato ha creato una sorta di mix uno dei più grandi mix che ci sia stato dal punto di vista delle tradizioni culturali per cui semplicemente gli africani cambiarono nome alle loro divinità e sostanzialmente gli misero i nomi cristiani cattolici e rimase questa tradizione ed è per questo che poi rimangono molte molte tradizioni che si mischiano tra di loro e ci sono per quanto ho preso dei libretti in questi in questi in queste tiendas d'exoterismo si chiamano sempre e in cui praticamente i segreti cioè quelli dei 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 popoli indigeni quindi sudamericani vengono osservati come satanici quindi questo è il mago ma in realtà qui dentro si parla delle orazioni si parla sostanzialmente dei segreti per vincere al gioco secretos paraganara lo squegos cioè sono cose di pura superstizione ma che visto che non potevano essere diciamo dominate e dalla cultura ispanica in questo caso sono state sono state dette negative malvagie oscure e quindi sono state relegate al contrario poi tutto quello che è capitato come vi dicevo con le culture africane si trova nel si nella sincretismo per esempio il libro di san cipriano si è un libro assolutamente di tradizione europea ma se io l'ho già letto questo se lo si va a vedere all'interno si si parla dei vari sigilli salomonici eccetera così ma tutto con un senso molto 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 vicino a quello che è quello del voodoo del candomblé brasiliano e quindi si vede come queste cose siano mischiate in una maniera pazzesca per quello io vado sempre contro alle cose mischiate perché se dobbiamo risalire a una tradizione originaria se dobbiamo risalire a una tradizione che ci accomuna tutti gli esseri umani che è quella poi dell'essere l'uno col tutto a dire il vero tutta questa serie di divisioni creano per l'appunto ancora più distanza che non ancora più distanza tra noi e la nostra verità un altro libro che avevo trovato era proprio il manual esoterico il manual di esoterismo in cui addirittura si fondono figure cristiane con figure politiche questo è bolivar chiedendo intercessioni di vario tipo e aggiungendoci tradizione sicuramente questo santo nofrio in realtà è una divinità africana marittima viene tutto mischiato per quello nella mia visione onestamente si deve fare un passo indietro rispetto a quelli che sono i sistemi religiosi a quelli che sono i sistemi culturali andare a ricercare in maniera più logico razionale possibile e anche in maniera però molto animica quello che è l'esperienza dell'energia e così ho fatto un excursus su varie cose che però mi andava stasera di condividere con voi Veronica dice non trovo molta differenza tra energia ed esoterismo per me sono due modi di vedere la stessa cosa secondo a quello di crea moviere che ne pensi in merito esoterismo innanzitutto bisogna definirlo perché esoterica è la cosa semplicemente che non è per tutti e quindi già qui c'è un problema perché questo è per tutti quindi non è nulla di esoterico perché in realtà tutti siamo in grado di percepire, di osservare, di vedere, di vivere in continuazione quello che è il flusso delle cose ok quindi energia è la base del tutto l'energia è tutto è anche difficile definire energia perché probabilmente è la parola più onnicomprensiva che esista l'esoterismo in Italia soprattutto viene identificato con quelle pratiche rituali, ritualistiche, pseudomagiche della tradizione diciamo sempre delle campagne quindi accendere la candela piuttosto che sono le classiche cose pagane chiamate così poi in maniera dispregiativa da quello che era l'establishment dell'epoca che era la chiesa cristiana io credo che siano due cose o meglio l'esoterismo utilizza l'energia ma l'energia è qualcosa di molto più raffinato dell'esoterismo l'esoterismo è la difficoltà dell'essere umano di riconnettersi a questa energia e l'essere umano per la sua difficoltà di non sapere più che è lui non sapere più dominare gli eventi non sapere più co-creare in una maniera utile, corretta, serena, bella, importante il proprio universo che cosa fa? si affida a rituali rituali che sono semplicemente una necessità mentale una necessità mentale che serve a creare quello stato di vuoto in cui sostanzialmente l'uomo può finalmente creare l'essere umano si suggestiona del fatto che con una candela piuttosto che con un cristallo piuttosto che con un'invocazione piuttosto che con un mantra possa ottenere qualcosa in più di quello che lui può già ottenere semplicemente stando tranquillo e beato, normale e quindi lo ottiene quindi lui pensa fortemente di ottenerlo e quindi lo ottiene crede veramente in questo e ottiene e non c'è nulla di male in tutto questo certamente non è la forma più alta di interagire con l'energia non è la forma più pura, più raffinata però è utile a chi è utile senza giudizio potete fare tutto senza complicarvi troppo la vita ok? è come se io volessi andare da qui a camera mia che è qualche metro più in là e decidessi di prenderla la macchina a fare il giro delle montagne qui vicino e poi entrare dalla finestra pensando che sia la maniera più efficace più migliore anche più sicura e anche la più giusta io ci arriverei lo stesso senza problemi faccio un giro tutto qua è sempre la libertà la libertà è la cosa più fondamentale è importante però se si è in una prospettiva di espansione non di limitazione talvolta anche rendersi conto che siamo già perfetti così come siamo ognuno di noi, ognuno di voi è perfetto così com'è per cui da questa consapevolezza la non necessità del dover migliorare questa fake news del dover migliorare a tutti i costi non c'è nulla in cui dovete migliorare dovete soltanto riscoprire chi siete veramente e vi accorgerete che avete delle doti e siete di una bellezza che è risplendente questa è l'assoluta verità e ognuno di noi lo è ognuno di noi con la sua unicità con la sua peculiarità ognuno di noi con i suoi doti e con i suoi limiti intrinsechi del essere esseri umani quindi è importante veramente riuscire a creare una separazione tra quelle che sono le fear based diciamo noi tecniche quindi le tecniche basate sulla paura io non ce la faccio mi affido a io non sono in grado di mi affido a ah non potrò mai farlo senza di puoi fare tutto con o senza ma perché sei tu che lo fai non dare mai a nulla di esterno il potere di determinare la tua vita sia esso un amuleto sia esso un mantra sia esso un cristallino sia esso un'abitudine sia esso una persona non diamo alle persone la capacità di limitare le nostre vite non diamo agli eventi non diamo al lavoro non diamo alla dolore non diamo alla felicità la capacità di limitare la nostra vita noi semplicemente siamo e poi andiamo avanti Gabriele mi chiede dove si può acquistare il libro ovunque credo anche su Amazon io consiglio perché collaboro con loro e quindi con grande piacere consiglio la libreria esoterica Anima di Milano oppure la libreria Ibis di Bologna quindi acquistiamo invece che da Amazon che da Jeff Bezos da queste realtà che sono eccellenze della cultura italiana visto che stanno distruggendo in maniera totale la cultura adesso non si può neanche più citare Omero perché è sessista non si può neanche più leggere la Divina Commedia perché è contro l'Islam non si può iniziamo a stare un po' più coi piedi per terra e tentiamo di aiutare chi ce la sta facendo anche in questo momento piuttosto duro sotto il profilo proprio lavorativo perché le librerie ne stanno risentendo quindi ti ho consigliato questi due posti Gabriella e poi vedi tu Monica prima volta per te molto interessante grazie Chiara si aspettava una domanda una risposta un po' delle mie e quindi se l'è beccata e spero che le sia piaciuta e anche se non è piaciuta va bene lo stesso scherzo perché su una cosa posso contare nella vita sulle domande di Chiara durante queste dirette Elena mi dice cosa pensi direi che ipnosi due cose molto differenti allora cominciamo dall'ipnosi allora bisognerebbe ben definirla l'ipnosi perché tutto è ipnosi a dire il vero anche quando tu sei in giro per il supermercato e ci sono dei prodotti ad altezza occhi e ci sono dei prodotti ad altezza ginocchia anche quella è ipnosi nel senso in cui hai l'induzione subconscia di agenti esterni di far prendere scelte o di far determinare precisi processi all'attualmente quindi anche quella è ipnosi l'ipnomarketing si studia anche nelle facoltà di economia per cui oltre che di psicologia bisogna stare attenti su che cosa è l'ipnosi poi c'è l'ipnosi da palcoscenico quella tipo giucca scasella tipo come si chiamava quello abbastanza bravo americano silver tom silver ok vai sul sul palco ti mettono in trance purtroppo io ci ho provato e sono resistente purtroppo ho testa di minchia per essere ipnotizzato mi dispiace e ti fanno mangiare la cipolla pensando che sia una mela e tu dici mmm quanto è buona e poi ti ritrovi con l'alito cattivo per tre giorni quindi quello è un altro tipo di ipnosi un tipo di ipnosi ancora più interessante è un pochino più interessante è un'ipnosi in fase alfa per cui praticamente è una sorta di visualizzazione meditazione guidata utilizzando un certo scansionare delle parole utilizzando un certo ritmo e talvolta utilizzando anche particolari suoni di sottofondo la persona va in uno stato rilassato in uno stato rilassato mentale e quindi quello che succede sostanzialmente è la capacità di poter far emergere qualcosa piuttosto che poter inserire qualcosa ok e dopo c'è proprio l'ipnosi medica l'ipnosi quella che si fa dagli psichiatri che è qualcosa di ancora più profondo e diciamo a livello di efficacia dipende perché ogni cosa è efficace per se stesso siamo tutti diversi un pochino come quando si prende l'aspirina a me fa passare subito non lo so il raffreddore a te non ti fa niente a quello con l'emofilia gli fa male perché gli diluisce ancora di più il sangue piuttosto che utilissimo e cardiopatici perché invece lo diluisce il sangue o siamo tutti diversi quindi non saprei dirti un tipo di ipnosi migliore dell'altro è una cosa interessante che ho studiato marginalmente e quindi non so darti ancora più spiegazioni il reiki invece l'ho studiato e devo dire riscontro personalmente ma perché poi ho trasceso quella quella tecnica ho trasceso le tecniche proprio in generale è bellissimo nel metodo classico trovo che però un po' in giro per il mondo si sia abusato della parola reiki si sia abusato e addirittura a un mio collaboratore venne proposto e ridemmo circa per 40 minuti e venne proposto di provare una seduta del reiki con l'energia dei delfini di Atlantide allora proprio per quello che dicevo all'inizio sul non mischiare le cose siccome è una cosa bella da sola lasciamola da sola non aggiungiamoci quello che il nostro ego perché siamo insicuri di noi stessi e del risultato delle sedute ci fa oppure quello che ci piace perché è esotico oppure quello che ci piace perché ci ricorda qualcosa oppure quello che ci piace perché abbiamo dei traumi e lascerei stare tante cose e andrei anche lì nella forma pura chiara diretta liscia ed è sicuramente qualcosa qualcosa di assolutamente interessante intanto una serie di buonasere sono arrivati tutti insieme poi 22 minuti fa le persone quindi Barbara Giusitina Maica Mirella Anna Antonella ciao Antonella Giovanna Ilaria buonasera Anna Camilla Enrica Anna Anna Rita Nina adesso ve le devo leggere tutte se non poi se l'offendete Anna Lisa ok Veronica dice dandomi immagino ragione mi illudo che tu mi stia dando ragione mi dice quando credono di fare magia non fanno altro che muovere energia quando si usa la divinazione si sfrutta molto il campo si sfrutta totalmente il campo anche quando si fanno i tarocchi anche quando si fanno i busios che sono le conchiglie brasiliane che vengono lanciate lo stesso discorso per le rune cosa fai? pigli lanci ma sei tu a lanciare quindi sei tu a determinare quello che cos'è quello è uno specchio di quello che sei in quel momento infatti tanti 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 psicologi adesso stanno iniziando ad utilizzare non attenti i tarocchi ma delle carte delle carte simboliche però le carte simboliche per antonomasia sono i tarocchi nella tradizione occidentale e quindi cosa fanno? ti fanno pescare ti fanno buttare giù e ti fanno autoleggere questa lettura che semplicemente sei tu in quel momento non si sono inventati niente soltanto che uno psicologo che fa i tarocchi viene radiato dall'ordine e lo psicologo che ti fa vedere il tramonto piuttosto che il mare la collina o una scena invece che ti impatta eccetera non viene assolutamente come si può dire criticato è chiaro che ogni volta che utilizziamo oggetti divinatori siamo noi stessi ma ogni volta che facciamo qualcosa siamo noi stessi noi siamo veramente creatori ogni istante della nostra realtà siamo veramente creatori ogni istante della nostra verità ok io dico sempre in tutte le dirette lo dico soprattutto per i nuovi che se io trovo una persona che mi dice io so la verità io scappo via perché di solito sono le più pericolose ma non pericolose per me sono pericolose per loro stesse perché pensano di saperla e quindi creano e fanno azioni come se loro sapessero la verità in realtà nel sistema di monopoli universale che ci siamo creati nella vita in questa vita e la verità non la possiamo sapere per cui io stesso dico sempre oggi vi dico queste cose la prossima volta vi dico scusate vi ho detto una serie di cazzate e ve le dico quelle che penso in quel momento anche perché chi non si libera al divenire al mutare al trasformarsi all'evolgere difficilmente sta facendo un vero cammino spirituale chiamiamolo così anche se la parola non è che mi sconfinferi molto cosa ne pensi delle affermazioni davanti allo specchio sono una forma di autoipnosi quindi non so quanto siano utili onestamente perché uno poi si mette davanti sono forte sono figo sono bravo sono bello sono intelligente sono il mio meglio al 100% 200% tutte queste affermazioni e tutta programmazione neurolinguistica uno può affermare quello che vuole però al dato del fatto è come si sente dentro quindi può essere utile e tutto può essere utile e può essere utile anche semplicemente andare da McDonald's e scrofanarsi un menù intero o due ok in maniera che hai tantissimi zuccheri e quindi il cervello va in overclocking no e dopo ti farai un po' di dieta depurativa ok tutto può essere utile bisogna trovare quello che è utile per ogni persona io onestamente non avrei la pazienza e la voglia di fare la mattina le le affermazioni davanti allo specchio perché mi sentirei limitato perché perché io devo dire una cosa a me stesso non sono io abbastanza consapevole di autodeterminarmi non sono io abbastanza consapevole per capire chi sono qual è il mio problema quali sono le problematiche che sto affrontando nella vita qual è il disagio qual è oppure l'esaltazione perché attenti noi parliamo sempre di problemi del disagio del dolore però talvolta ci sono le esaltazioni che sono pericolose quasi quanto le depressioni e quindi in questa bipolarità che ognuno di noi bisogna sempre stare un pochino attenti è proprio per questo che io insegno equilibrio non insegno quei corsi cocaina che li chiamo così quelli dove entri spacco tutto fra una settimana anche abbastanza bene poi a casa fra la settimana dopo stai peggio di prima perché dici cazzo non ci sono riuscito un'altra volta ciao Sissi e grazie del consiglio guarda ti metto un like consiglio il trattamento con me bene anche a distanza vero sì noi lo abbiamo fatto sempre a distanza perché non ci siamo mai visti e ti ringrazio per il feedback sei molto molto gentile a farlo qui in diretta il titolo del libro si chiama The Reconnection guarisci gli altri e guarisci te stesso scritto da Eric Pearl edizioni My Life vediamo un po' cos'altra Veronica dice hai sempre ragione perché sei troppo bello per darti torta dici no spero che non sia per quello onestamente anche perché mi sa che non è è un problema allo schermo che non si vede molto bene no spero che non sia per quello Maria Grazia si trova d'accordo sono contento utile per l'ego sicuramente cosa pensi di eliminare le convenzioni limitanti traumi infantili e carmici allora eliminare le convenzioni limitanti viene fatto come dipende come le vuoi eliminare queste convenzioni limitanti perché se le vuoi eliminare sbattendo la testa davanti davanti allo specchio è un po' dura a farlo è un po' dura a farlo nel senso può essere utile però è sempre quel quell'aiutino ok mentre invece ci sono ci sono pratiche puramente energetiche che poi vanno a lavorare direttamente sulla mente ok quindi dall'alto vai a lavorare e non usi la mente contro la mente anche perché poi se no crei dei mismatch molto 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 forti e quindi crei dei momenti di come dicevamo prima di esaltazione dire ah quanto sto bene finalmente ce l'ho fatta il mezzo secondo in cui poi ricali un attimo che è fisiologico perché tutti noi siamo in oscillazione continua è sbagliatissimo pensare che ci siano persone beate sante che vivono sulla nuvoletta non credeteci ok o meglio credete a quello che volete ma poi vi renderete conto che molte persone sono un pochino false nel mondo della spiritualità che sono sempre così sembrano sempre così e più parlano di pace amore universo chissà che più hanno qualcosa da nascondere questa è la mia esperienza personale parlo di quelli che ho incontrato io poi casomai voi siete più fortunati o più evoluti di me ed attirate persone di altissimissimissimo livello che invece sono sempre così però non credete a chi non oscilla eh non credete che a chi non oscilla perché l'oscillazione è l'evoluzione ricordatevi una cosa anche nel buddismo quando si raggiunge l'illuminazione si raggiunge per un attimo una frazione di secondo un istante la stasi dopodiché il buddha di sua volontà ritorna nella forma del bodhisattva per aiutare le altre anime ok quindi si entra in un attimo di contemplazione del tutto e si ritorna indietro ok è chiaro che poi tutto quello che ci fa oscillare è quello che ci fa evolvere perché se non avessimo difficoltà o se non avessimo piaceri nella stasi saremmo sostanzialmente morti ok molto importante e il titolo si te l'ho scritto poco sotto The Reconnection e se no poi te lo scrivo sotto anche io quando finisco la diretta Barbara dice pensavo di essere la sola testa di minchia meno male che ha trovato un amico eh ma se vuoi abbiamo un club eh di testa di minchia un club a entrata gratuita se vuoi possiamo farci delle grasse risate ok perché meglio essere consapevoli di quello che si è piuttosto che esserne inconsapevoli quindi chissà dove ci porterà l'evoluzione eh Barbara dice che è interessante bello conosce bello anche per me io mi diverto moltissimo in queste dirette perché vado a ruota libera mentre invece nelle presentazioni nei corsi eccetera ovviamente sono più più dogmatico più devo fare devo farvi imparare qualcosa qui invece chiacchiero con voi ed è molto piacevole ok sì si dice devo fare il terzo e ultimo trattamento che poi ho che non sono trattamenti sono sessioni eh questa è la mia parte giuridica che viene fuori perché il trattamento è qualcosa di specifico nei confronti di una patologia o di un problema specifico ok non è questo come sai eccetera questo lo dico anche se ci sono degli amici eh operatori olistici dove la parola trattamento viene assolutamente abusata e vi consiglierei eh di non usare questa parola ai fini proprio della correttezza sia nei confronti del cliente sia nella correttezza giuridica del termine usate la parola sedute sessione a trattamento a qualcosa che fa qualcuno in ambito soprattutto medico e mi raccomando ocio perché vogliamo che queste cose siano sempre più riconosciute siano sempre più apprezzate siano sempre più fatte in modo professionale serio e quindi anche la nomenclatura è importante lo so che sto dicendo qualcosa che vi sta sorprendendo perché tutti usano il termine trattamento però anche questo insegno nei corsi dice perché solo tre trattamenti quindi solo tre sessioni in realtà non sono solo tre o meglio sono consigliate da uno a tre dopodiché si interrompono le sedute di Reconnective Healing semplicemente per una questione di deontologia o meglio se un operatore ti continuasse a fare tante tante sedute e tutte quelle che vuoi per esempio tu come ti renderesti conto del cambiamento quello che vogliamo noi è che tu sia responsabile della autoosservazione di te stessa quindi facciamo una, due, tre dopo che si prende una bella pausa e dopo si possono fare altri cicli più avanti ok è un fatto anche di responsabilità molto spesso i clienti di tutte queste pratiche affidano totalmente all'operatore o a chi per lui ok il il totale dispiego poi della propria vita della propria evoluzione financo in alcuni casi della propria salute è sbagliatissimo perché non bisogna dare a nessun altro e nessun altro si deve prendere la responsabilità di chi siamo noi ok per quello dal punto di vista deontologico noi dopo la terza sessione tra virgolette nel senso buono imponiamo una piccola pausa almeno per andare in autoosservazione come si deve e questo crea anche un'autonomia del soggetto un'autonomia del cliente perché perché sostanzialmente molto spesso c'è un attaccamento sano o non sano però questo non lo possiamo valutare ex ante quindi non lo possiamo valutare prima del cliente nei confronti dell'operatore ok e ci sono talvolta perché non è mica come in tutte le professioni come tra gli avvocati tra gli ingegneri tra i medici sono operatori che portano avanti la deontologia ed altri invece che ne approfittano e quindi dicono ah facciamo una seduta a settimana ah non è soddisfatta facciamone due non è così che funziona quindi come direttore del team internazionale direttore di Reconnection io consiglio sempre da andare da operatori certificati che ti fanno il discorso delle tre sessioni dopo di che interrompiamo in maniera che poi tu sei consapevole di quello che ti ha fatto che non ti ha fatto cosa hai attenuto cosa non hai attenuto benessere evoluzione quello che è però inizi così e anche proprio per rispetto proprio della persona umana Maria Grazia che mi conosci ora piacere di conoscerti sentivi sentivi dentro le cose che dico senza saperle ma perché questo è una cosa che capitava tantissimo anche a me quando andavo e vado tuttora anche alle conferenze di altri operatori in realtà cara Maria Grazia io non sto dicendo niente di nuovo per te perché perché io sono sostanzialmente qualcosa che tu hai creato in questo momento per ricordarti di cose interessanti ok che ti sono utili in questo momento quindi tu hai creato il simulacro hai creato l'ologramma di Guglielmo Poli semplicemente per andare ad ascoltare qualcosa che ti serviva in questo momento al contrario io ho creato te perché siamo co-creatori in questo senso per farmi dire delle cose o avere lo stimolo di dire delle cose che casomai non ricordavo ma che avevo la necessità di riportare alla mente in questo momento quindi di riportare nel cui è ora nella consapevolezza alcune tematiche quindi io aiuto te in questa forma maieutica ma tu aiuti me perché è un rispecchiamento continuo perché ricordiamoci un concetto che viene molto utilizzato viene molto 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 utilizzato però quasi nessuno riesce a coglierne il vero senso si dice sempre tutti siamo uno e poi ognuno si fa i cazzi suoi no e non è non è un buon concetto soprattutto la seconda parte perché se è vero che tutti siamo uno allora applichiamolo dal punto di vista pratico ok quindi ci applichiamo nell'essere specchi chiari specchi come si dice e limpidi rispetto all'altra persona questo è il dono più bello che puoi fare all'altro questo è dare se stessi cioè toglierti di mezzo totalmente perché tu sei l'altra persona e questo a chi volesse approfondire il discorso dei vari specchi e di come questi specchi possono essere interessanti nelle dinamiche umane consiglio da un mio grande maestro che è il professor Mario Pollo che è stato per anni il preside di facoltà di scienze psicologiche alla libera università Santissima Maria Assunta di Roma in Vaticano e ha scritto un libro di pedagogia manuale di pedagogia che non parla di pedagogia ma parla dell'anima perché il divenire sostanzialmente adulto con una consapevolezza profonda dell'anima fa crescere bambini adolescenti ragazzi adulti migliori ed è un libro eccezionale devo dire uno dei più belli che ho letto sotto il profilo psicologico chiamiamolo olistico ma se mi sente il professore mi spara a distanza ok però per farvi capire bene il senso ok allora l'aria con gli hertz si può ripulire l'inconscio che cosa è un hertz un hertz è una quantità di cicli per determinato tempo per cui non so come fai con un come se tu dicessi con i metri si ripulisce l'inconscio con i litri si ripulisce l'inconscio con i galloni si ripulisce l'inconscio non farti infinocchiare ok non farti infinocchiare ci sono determinate frequenze che possono portare alcuni soggetti rari ok a uno stato mentale alterato in quello stato mentale alterato si sente come il rumore bianco ok ti può portare a una a una condizione diciamo di chiarezza mentale ripulire l'inconscio è un lavoro che la musichina non fa ok ci vuole un po' più di se poi uno crede profondamente che la musichina gli pulisca l'inconscio e ti fa bene sono contento per chi perché è così in grado di crearsi questa situazione però è un po' difficile ecco che con le musichette soprattutto quelle che trovate su youtube ragazzi non ascoltate le musichette su youtube vi prego o meglio ascoltatele poi vi renderete conto e poi mi verrete dire ok forse dovevo ascoltare però fatelo e poi e poi pensateci su un attimo ok come mai ce ne sono così tante gratis su internet che è un'opera di ingegno notevole comporre quella musica arrivate le vostre conclusioni veronica dice a parte gli scherzi mi piace seguire le tue dirette perché hanno il giusto compromesso fra spiritualità e realtà eh ma si chiama equilibrio secondo me perché bisogna stare coi piedi per terra e con la testa fra le nuvole bisogna fare sostanzialmente una bella stare in ordine no? come dico sempre il simbolo esoterico dell'axis mundi no? essere asse e preciso chiaro bisogna stare coi piedi per terra perché finché siamo materiali fin quando non lasciamo il corpo fisico viviamo nella materia quindi nella razionalità nella mente nell'essere terra a terra nel mangiarsi qualcosa di buono nel fare l'amore bene nel respirare cazzo una boccata d'aria pura oggi sono andato qua vicino nei miei boschi che è una figata unica perdonatemi io non ne posso più di andare in giro soprattutto ho dovuto fare questi viaggi intercontinentali parecchie ore di aereo sempre con la mascherina cioè sono andato nei boschi e oggi vi faccio una diretta che mi sembra abbastanza carina Mina Gelsomina è la prima volta che mi ascolta io seguitemi anche nei miei social se volete il mio canale di youtube basta che iscrivete Guglielmo Poli e mi trovate ovunque Barbara che tipo di sessioni fai? si chiamano Reconnective Healing e The Reconnection caso mai dopo anzi te lo scrivo subito così guardi che cosa faccio anche perché l'ho già detto e non vorrei allontare gli altri ok? ti ho lasciato il mio sito direttamente e vediamo un po' cos'altro c'è qui ho perso il segno ecco Barbara dice ne devi fare sei ma no tu calcola che di sedute se ne può fare anche soltanto una e poi si vedono gli effetti e capirai a volte si vedono gli effetti veramente concreti ok? quindi no non ne devi fare sei di sedute ma neanche tre cioè fai quelle che senti tu quello che sempre dico io ai miei allievi è quello sceglie la persona sceglie il cliente come quando tu hai fame vai davanti al frigo e mangi non è che stai davanti al frigo in contemplazione anche quando non hai fame allora quando senti la necessità la voglia di di farle eccole lì mi chiami e le facciamo altrimenti virginia contenta anche io sono contenta sì sì si fa la terza sessione quando vuoi mi chiami è il mio numero e che ti dice se creano dipendenza eh sì sì talvolta creano dipendenza e talvolta in buona fede talvolta non in buona fede organizziamoci per avere discernimento eh per avere discernimento su tutto quello che è questo mondo spirituale un po' un po' pazzo io ho sforato l'ora ragazzi oggi veramente ruota libera e Deborah ci vediamo indifferita quando vuoi affascinante spiegazione dice Cleta e meno male io se devo dire le cose che dicono gli altri sto zitto perché non le ho già dette gli altri le devo dire diverse poi possono piacere o non piacere però almeno abbiamo un punto di vista un po' differente ok non ci si annoia mai essere super in equilibrio sì 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 non mai infatti come ho detto prima è un siamo sempre in oscillazione dobbiamo essere in oscillazione essere in equilibrio vuol dire mantenere l'oscillazione tra invece che fare i bipolari tra depressione e esaltazione essere oscillanti che anche se succede qualcosa che ti tocca nella vita oscilli fino a un certo punto e poi ritorni in su io dico che con la riconnessione che è la pratica energetica che faccio io sei un po' come Ercolino sempre in piedi ti arriva certamente il cazzotto allora vieni giù e poi ritorni su ti esalti? sì perché capita di esaltarsi la vita siamo fatti anche di ego eh ragazzi questa demonizzazione dell'ego è giusta soltanto in ambito energetico se uno vuole pervenire a stati energetici particolari è chiaro che deve liberarsene ma per vivere è assolutamente necessario e ritorni su quindi dolce minù è un cartone animato di quando ero piccolo io cos'era la signora col cucchiaino che diventava piccola credo che sia quella o forse sto delirando però mi sembra quello lì mi ama per farmi cadere dalla sedia guarda finché non cado io dalla sedia va bene ok sia un privilegio poterci andare sì è un privilegio è assolutamente un privilegio ma tutto quello che abbiamo ce lo creiamo ok e non c'è nessuno più bravo o meno bravo degli altri a crearselo vogliamo una cosa andiamoci a sbattere con la testa contro il muro finché non la otteniamo mi raccomando dirò un'altra cosa abbastanza così però con questa chiudo io sono abbastanza contrario a tutto il concetto di lasciare andare quando coach o psicologi te lo dicono poco comunque sì soprattutto coach o persone dell'ambito eh lascia andare lascia andare ma lascia andare de che cos'è che devi lasciare andare se tu vuoi una cosa fai la persegui se tu vuoi un lavoro pigli e vai a citofonare a tutti le aziende o i datori di lavoro e finché non lo tieni se tu devi fare colpo su una persona l'ha ovviamente dei limiti della correttezza eh tra esseri umani però ci provi almeno ok non lasciare andare non arriva niente l'universo osserva il tuo atteggiamento se tu hai un atteggiamento di andarti a prendere le cose l'universo dice cazzo io questo gli voglio dare le cose se tu hai un atteggiamento invece di remissività perché pensi in questo modo di essere più spirituale otterrai ben poco anche con la legge dell'attrazione ma soprattutto con la legge di risonanza perché la legge di risonanza in uno stato di lasciare andare ti osserva come remissivo come persona che non vuole niente perché tanto lascia andare tutto quindi attenzione ragazzuoli e passeggeri in boschi è bellissimo poi qui ci sono delle cascate casomai un giorno vi manderò una sul gruppo chiedo se possa Gaetano un video da lì ciao a tutti ciao Ilaria ecco vedi ho fatto una rimembranza giusta della della signorina minua la piccola minua un cartone allucinante un giorno sapete cosa bisogna fare bisogna fare una puntata sui significati esoterici dei cartoni e delle favole eccetera voglio recuperare dei documenti che però non ho qui o a Roma e facciamo una bella chiacchiera su quello quello a me piace anche perché mi riguarda anche adesso i cartoni animati per cui devo dire che è qualcosa che mi è sempre piaciuto ci vuole anche un bel po' di tempo io sto sforando ragazzi quindi chiedo scusa alla persona che viene dopo al relatore che viene dopo ho sforato i sei minuti non è mia abitudine ma oggi abbiamo avuto tante belle domande in diretta vi saluto vi ricordo se volete aggiungermi su facebook aggiungetemi ma non nel profilo dove è già pieno di 5.000 persone sull'altro oppure venite sulla mia pagina ufficiale guglielmopoli a mettere like così vi arriva tutto il flusso delle notizie seconda cosa se volete seguirmi su youtube scrivete guglielmopoli su youtube e mi seguite e mi fate pure un favore perché ho l'obiettivo dei mille followers sono a 900 e qualcosa 960 una cosa del genere se volete andare sul mio sito andate su guglielmopoli punto ch attenzione ch come la svizzera non punto com e vi saluto vi ringrazio per qualsiasi informazione vogliate vogliate mettervi in contatto con me vogliate dirmi sei proprio una testa di minchia se volete dirmi mi scrivete e sono a vostra disposizione ci metto un pochino a rispondere soprattutto in questo periodo però rispondo penso sempre penso non ci sia nessuno che abbia mai visto diciamo negata la sua risposta un caro abbraccio a tutti ci vediamo tra due settimane sempre il giovedì sempre alle 8 e mezza sempre su bridge of light scrivetevi le mostre domande potete scrivermele anche subito io poi le salvo nel mio file le vostre domande per la prossima volta un abbraccio a tutti buona serata e divertitevi è sempre bello divertirsi ciao